Care amiche ed amici, qui il vostro San Ten Chan, sono contento di poter ritornare a trasmettere a tutti voi i miei programmi in Sprecher, dunque mi sono assentato perché negli ultimi due o tre mesi sono riuscito a far funzionare nel mio vecchio cellulare un Samsung Galaxy Young 5360 l'applicazione di Instagram, allora come spesso succede quando uno scopre una cosa nuova, perché già non mi funzionava Google Plus nel cellulare, ho iniziato a sperimentare, e a caricare un bucchio di foto, quindi vi invito a quanti di voi sono interessati, amiche ed amici miei, a guardare le mie foto, soprattutto i miei tutorial di gastronomia Cassariccia, di cercarmi in Instagram come San Ten Chan e di aggiungermi fra i contatti, io farò lo stesso, io ricambio sempre, anche i likes, ho cercato di provare un bucchio di programmi che ti promettono di aumentare i followers in Instagram, però non funzionano, ne ho aggiunti di 500 e il semestre sono aggiunti circa 30, 20 e quindi niente, come dire, non funzionano, la cosa migliore è che fra utenti ci si deve contattare ed aggiungere nella lista, non fra con dei programmi, delle applicazioni che non funzionano. Bene, chissà quanti di voi mi staranno ascoltando dal vivo adesso, però c'ho da fare e ritornerò a trasmettere fra poco, perché ho dovuto cancellare degli episodi per avere dello spazio, perché io sono disoccupato e trasmetto con un account gratis, quindi ho 10 ore massimo, ho 7, non so quante, adesso quindi ho altre 3 ore, meno questi 3 minuti, poi continuerò a fare un altro programma, adesso devo andare, ciao!